Un governo italiano non c'è, c'è però un Papa, è stato eletto ieri per la prima volta Francesco, per la prima volta un Gesuita e per la prima volta un Sudamericano, un commento su questo? Ma una figura certamente come si nota subito di grandissima spiritualità, una figura che appare subito amichevole verso la vita comune, anche verso le sofferenze del mondo e è che nelle sue prime parole di ieri naturalmente escono delle suggestioni, posso dire le mie, forse mi è parso nelle parole di ieri un po' più teologo di quanto non gli venga riconosciuto perché questa ribadita affermazione di una Chiesa di Roma che presiede le Chiese del mondo nella carità è una formula che nella suggestione allude sia a una collegialità sia a una prospettiva di dialogo interreligioso molto importante, perché se uniamo questa affermazione alla parola Francesco ci mettiamo non solo la povertà, non solo la carità, non solo la sobrietà, ma ci mettiamo anche un approccio amichevole e dialogante con le regioni del mondo, perché Francesco suona così per il mondo. E quindi mi è apparso, mentre era uno sguardo molto locale sulla città di Roma, in realtà il messaggio era molto internazionale, molto all'orbe terracquea.